Siamo un gruppo di 15 persone che abbiamo raccolto questa manifestazione di intenti per creare un centro studi dedicato al studio delle norme, quindi di fare degli studi specifici, non certamente di fermarci al programmatismo giudiziario, cioè dire alle piccole sentenze, a quello che si verifica nei tribunali, ma più che altro studiare gli studi specifici e quindi poi relazionare nelle aule di giustizia oppure nel nostro centro con un gruppo di persone che si è interessato. Il tema del convegno di oggi verte sull'esame della prova orale nel processo penale e sui poteri dispositivi delle parti. Questo perché abbiamo pensato a questo convegno perché tra le varie riforme introdotte dalla legge Cartabbia vi sono alcune norme che riguardano proprio l'esame testimoniano del processo penale e i poteri dispositivi delle parti. Gli incontri del genere sono sempre buoni perché, anzi più che buoni sono utili, ottimi, perché aiutano ad un confronto soprattutto in vista poi di quello che saranno le novelle legislative della legge Cartabbia che proprio per l'esame dei testimoni soprattutto nel mondo minorile introduce delle significative modifiche.